Impianto CB su questo Carthago Chic Plugs vediamo il lavoro che ho eseguito e il materiale utilizzato. Il primo lavoro è stato quello di posizionare questa piastra in acciaio inox Kit Camper by Trek Point con antenna power da 1,60 m a 800 W preterata e motorino dove mi dà la possibilità, ora lo vedremo, di alzare e abbassare l'antenna. Per mezzo del comando è possibile abbassarla come stiamo vedendo, ovviamente questo comando mi dà la possibilità anche di fermarla o di farla andare totalmente giù come vediamo. Diversamente è possibile anche alzarla, quindi sempre tramite lo stesso comando. Per mezzo di questo comando, il comando che mi dà appunto la possibilità di alzarla e abbassarla, ho queste due lucine dove nel momento in cui io la vado ad alzare, la lucina quando l'antenna è totalmente verticalizzata si accende di verde, diversamente se la vado ad abbassare, come ho detto prima, io posso posizionarla come voglio in base all'altezza che mi esige per utilizzarla, in trasmissione va tenuta dritta. Adesso io la sto abbassando, quando arriva a fine corsa, quindi totalmente abbassata, ho la spia rossa. Nel momento in cui invece vado a pigiare nuovamente di qui, ecco che l'antenna, a un certo punto il led diventerà verde, vuol dire che è totalmente verticalizzata, quindi totalmente dritta. Il motorino quindi è molto utile perché mi evita, specialmente in camper motorhome di questo genere, altri già 3,30 m, più l'antenna a 1,60 m, andiamo a 4,90 m, di andare su sul tetto o di espormi da un oblo. In modo facile e veloce, come hai visto, mi alza e mi abbassa l'antenna. La piastra ovviamente viene fissata qui sul tetto per mezzo di un apposito silicone e quindi una funzionalità ottimale a distanza per il tuo CB. Questo kit può essere applicato ovviamente sia su motorhome, come in questo caso, ma anche su semi-integrali o mansardati. Per quanto riguarda invece il CB, abbiamo scelto l'Alan 48, uno degli apparati migliori per essere utilizzato su installazione di camper in modo particolare perché è dotato di selettori e manopole che mi danno la possibilità di migliorare sia la qualità della ricezione ma anche della trasmissione. In ricezione diciamo che mi dà la possibilità di togliere questo disturbo che esiste in ogni tipo di CB per mezzo dell'RF gain e dello squelch in modo molto pratico mettendo le manopoli in questa posizione. In più ho tutta la parte selettori che sono dei filtri antidisturbo e ho queste due spie che sono una alla trasmissione, quindi quando io vado in trasmissione si accende e la seconda, l'Aui invece, che è la sfia dell'antenna. In definitiva, se ho problemi sull'antenna o addirittura la dovessi dimenticare totalmente abbassata, si accende. Mi indica in definitiva che ho un problema e quindi evito di andare a danneggiare il CB. L'apparato, come puoi vedere, è stato fissato qui con la sua apposita staffa. È una staffa che mi dà la possibilità anche di rimuoverlo molto facilmente. Ho l'altoparlante qua sotto, ho una qualità dell'audio anche ottimale. L'apparato è munito di 40 canali, modificato, come abbiamo già detto, in potenza per aumentare la distanza e quindi migliorare la qualità della modulazione e il comando alza-bassa messo lì per maggiore praticità. Io sono Umberto Cibi by Trekpoint. Il Trekpoint si trova in provincia di Cremona e dispone di un ampio piazzale, e un ampio piappannone per le dovute installazioni. Mi occupo da 35 anni di installazioni di impianti CB su camper, auto, fuoristrada, mezzi agricoli, moto, camion e veicoli in genere. Se anche tu necessitassi di installare il tuo impianto CB sul tuo mezzo, in questo caso un camper, o altro mezzo, mi puoi sempre contattare i numeri qui in sovrimpressione allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare che è anche il numero di WhatsApp il 335 446 595. Ti ricordo inoltre che il Trekpoint spedisce in tutta Italia e utilizza anche un sito internet dove puoi visitarlo, in questo caso specifico sezione camper, per vedere le varie opzioni e quindi soluzioni di impianti CB sul tuo camper. Ti ringrazio per essere stato con me, se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici e noi ci vediamo il prossimo video. Quindi attiva la campanella per stare sempre aggiornato.